La prima volta non si scorda mai, soprattutto se si tratta di eleggere il Presidente della Repubblica e tra i parlamentari di riferimento del territorio, lui, l'Onorevole Racchella. È con grande emozione che il 24 di gennaio andrò a Roma a votare il Presidente della Repubblica. D'altro canto è la più alta carica dello Stato italiano, non è da tutti, è la mia prima volta e naturalmente si sente sulle spalle anche la responsabilità di tutto ciò. Un'elezione che forse ha un peso specifico differente rispetto al passato, soprattutto per il delicato momento storico che stiamo vivendo. Sarà un Presidente della Repubblica, eletto in un momento molto particolare, dove avrà grandissime responsabilità. Basti vedere la situazione politica degli ultimi quattro anni. Dunque ci vuole una persona ferma, decisa e che sappia collegare il mondo politico degli ultimi anni. E chissà se da quel 24 gennaio sarà la seconda di volta dal Presidente della Repubblica per Sergio Mattarella o se in Italia si apriranno nuovi scenari.